Oggi non è solo Ferragosto, ad Ispica si festeggia Maria Assunta in Cielo, amati Assunti, ai microfoni di Radio Dimensione Musica il messaggio di Don Gianni Donzello, parroco della Basilica di Santa Maria Maggiore. La solennità di Maria Santissima Assunta in Cielo è un'occasione per noi spicesi, per noi credenti, per riflettere a metà del periodo estivo, in quella che tradizionalmente è chiamata la Pasqua dell'estate, la Pasqua di Maria, su quello che è il destino finale del nostro pellegrinaggio terreno. Perché l'assunzione di Maria in Cielo, anche nel suo corpo, è semplicemente un'anticipazione di una sorte che accomuna tutti noi credenti. E il guardare alla meta finale del nostro pellegrinaggio terreno diventa un'occasione per riflettere e dare una giusta direzione ai passi del nostro cammino. Mentre ancora siamo in pellegrinaggio, guardando a Maria, guardando alla nostra meta finale, abbiamo la possibilità di raddrizzare i passi del nostro cammino, rimotivare le nostre scelte, rimotivare le nostre decisioni, dare un senso e un contenuto alla nostra vita credente. Maria sia la nostra protettrice, Maria in quanto madre ci solleciti, Maria in quanto madre ci educhi e ci corregga, qualora è necessario, per la nostra salvezza. Grazie Don Gianni. Ringrazio Don Gianni Donzello, Piero Giunta, per Radio Dimensione Musica.